Ciao a tutti, bentornati in un svuota la spesa Conad, sempre un piccolo svuota la spesa ma tanto per farvi vedere cosa ho preso e comunque darvi un salutino. Inizio sono le mie due classiche shopper che tengo sempre in borsetta. Allora ho speso in tutto 31 euro e ho comprato in offerta tipo a 2 euro e 50 se non ricordo male il colore questo qua della palette schwarzkopf come si dice non lo so, tipo testa nera comunque dovrebbe essere e niente ho preso il marron glass castano diciamo che su di me viene comunque un castano scuro però non mi faccio scura 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 quindi tendo a fare questo qua perché comunque ci sono due capellini bianchi però io essendo molto chiara di carnagione non mi piace essere mora mora quindi scelgo sempre un castano scuro. Poi ho preso in offerta 86 centesimi latte senza lattosio questo della mucchi che è molto buono quindi 86 centesimi devo dire che è un prezzo bomba perché latte senza lattosio minimo costa 99 centesimi di quelli diciamo tipo l'euro spin se no a prezzo pieno vedete quanto costano poi in offerta c'era anche il gelato i cornetti questi qua quelli classici panna e cioccolato 2,29 del comand mentre in offerta 2,79 c'era anche l'agida sì è l'agida sì e ho preso però questo qua col caramello mi faceva a gola perché ho provato in gelateria il gelato al croccantino di mandorle che era una cosa buonissima devo dire quindi già vediamo quindi iniziamo anche con i gelatini poi in offerta 1 euro bucaneve doria io non li compro mai mi sono andata per esempio li compra spesso e ora di là di li vedo sempre mi è avuto voglia l'ho visto in offerta 1 euro e ho detto vabbè li prendo comunque vedo che alla bimba gli piacciono e infatti della solita linea della doria c'era anche questi qua ad 1 euro e animaletti così biscottini magari per la colazione vediamo se se li piacciono ok poi ho preso l'insalata ormai vado sempre quasi sempre di lattugino che questo comunque sia all'interno del del piadino delle focacce più dedicata come insalata quindi siamo reddi poi ora comunque non li mangi adesso che merenda ancora presto poi merenda guarda c'è il gelato e non l'avevo visto si poi ho preso la melanzana avevano presa solo una perché una ce l'ho ancora e poi siccome che non erano bellissime dico la verità 49 centesimi quindi non presa solo una che sennò magari si rovinano poi ho preso 70 centesimi lo stracchino piccolino da tenere appunto per la bimba gli yogurt che ho voluto prendere per mio marito perché io non lo posso mangiare lo yogurt e gli ho voluto prendere per magari una colazione o una merenda provare questi qua avena e noci che sono un po più particolari diciamo sono un po più arricchiti questi stavano mi sembra tipo 80 centesimi no in realtà meno tipo 65 centesimi due quindi ho preso questo e poi ne ho preso anche un altro che erano comunque sempre in offerta vabbè appena spunta fuori lo vediamo poi 65 centesimi o è sparito uno comunque i succhi di frutta questi famiglia e banana sempre marchio conad comunque devo dire che il marchio conad è molto buono bisogna essere sinceri 99 centesimi gli gnocchetti sempre marchio conad e quelli diciamo classici non quelli piccolini e può uscire guarda c'è la porta aperta e ci facciamo solamente un pranzo domani adesso vediamo poi bresaula conad 2 99 sempre in offerta ma è un'offerta fissa diciamo ribassi ecco una linea ribassi il burro questo qua 2 euro e 15 mi sembra da 250 grammi poi sempre in offerta invece 1 69 di prosciutto cotto questo qua sempre marchio conad sono 120 grammi poi il pesto secondo me il pesto invece è calato leggermente perché lui sembra averlo pagato un euro e 15 ora voglio controllare si l'ho pagato così ma era in offerta perché questa genovese un euro e 30 costava meno 10 centesimi quindi un euro e e 20 euro e 20 sì vabbè comunque un pochino meno del solito comunque l'avevo preso lo stesso sapete che non manca mai se vado lì o ad essere lunga prendo l'altro l'altro yogurt invece questo i cereali si vediamo se diciamo mangerei volentierissimo anch'io ma troppo acido quindi non lo posso mangiare poi la farina tipo zero questa qua appunto che utilizzo per fare la focaccia o comunque i dolci poi ho preso il dentifricio per la mia bimba questo qua bio repel un euro e 45 mi sembra invece in offerta c'era il pacco doppio del di quello che uso io di care borresteria due pacchetti in offerta un euro sempre 40 no un euro aspetta sì sì un euro e 65 e poi ho preso vabbè le patate queste qua della conad patate diciamo novelle che anche queste costavano tipo un euro e 60 erano sempre in offerta e quattro pomodorini a 49 centesimi anche questi al chilo erano in offerta niente questo era il mio svuota la spesa conad incentrato diciamo più su colazione e spuntini mettiamola così e nulla io vi saluto spero che anche questo video vi sia piaciuto e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo ciao